GENERGIA Buongiorno, sono Gianfranco Pisani, amministratore delegato di Genergia dal maggio 2008. In questo breve video vorrei illustrare gli obiettivi e la proposta di risparmio senza investimenti per il cliente da parte di Genergia. Chi è Genergia? Genergia è una ESCO, una Energy Service Company, che propone servizi di efficienza energetica mirati alla riduzione dei consumi energetici e quindi dei costi energetici del cliente, come pure al contenimento del suo impatto ambientale. Genergia è posseduta dal gruppo TESA che, attraverso la società CGT, importa e distribuisce e assiste i prodotti Caterpillar nel nostro paese da oltre 75 anni. Che cosa è una ESCO? Una ESCO è una società che non vende prodotti, ma servizi che conducono al risparmio energetico del cliente. In questo senso si fa carico degli investimenti e della conduzione degli impianti e quindi nessun tipo di investimento viene chiesto al cliente. Il risparmio ottenuto viene suddiviso quindi tra il cliente e la ESCO, che può rientrare dei propri investimenti. Genergia è una ESCO certificata, che può quindi condurre anche degli audit energetici e delle campagne di misura, nonché delle verifiche, sia prima che dopo le autorizzazioni. Un po' come la gestione calore? Non proprio, dipende da cosa si intende. Se per gestione calore ci riferiamo a qualcuno che manutiene e tiene in ordine l'impianto per un tanto all'ora, lasciando però tutti i rischi economici della conduzione, cioè il raggiungimento del risultato, in capo al cliente, ebbene, quelli non siamo noi. Genergia invece prende in carico l'intero fabbisogno energetico del cliente e lo soddisfa sia con gli impianti già esistenti, sia con altri nuovi eventualmente necessari, assicurando però il risparmio nel corso dell'intero ciclo di vita dell'impianto. Vede, l'energia è un bene particolare per il quale il costo di gestione ogni anno è molto superiore al valore dell'investimento. Quindi, tenere monitorato il rischio economico di conduzione è assolutamente determinante. Più precisamente, cosa propone Genergia? In sintesi, lo outsourcing delle energie, cioè il loro affidamento a un ente terzo esterno. Genergia si propone di fornire al cliente l'interezza, il 100% dei suoi fabbisogni, siano essi in energia elettrica, siano essi in calore, in vapore, in acqua calda o fredda, in condizionamento, in freddo industriale, eccetera. Cominciamo a misurare quelli che sono i fabbisogni effettivi del cliente. Per esempio, c'è un utilizzo di vapore che viene poi scambiato in acqua calda, noi andiamo a misurare l'acqua calda. Questo ci consente di fare un odito energetico complessivo del cliente, alla luce del quale rileviamo, se è necessario, acquistiamo, affittiamo, oppure anche soltanto li prendiamo in gestione, la parte tecnica, gli impianti del cliente, i cogeneratori, gli assorbitori, i chiller. Insieme decidiamo se è il caso di installare eventuali nuovi impianti, un nuovo cogeneratore, delle nuove caldaie, dei nuovi assorbitori, o chiller o altri impianti necessari, ovviamente a nostra cura e spesa. Conduciamo poi e manuteniamo l'intero complesso, acquistando sia le energie necessarie per l'impianto da noi montato e per tutti i fabbisogni energetici del cliente, sia poi interfacciando il mercato per la parte di vendita di eccedenza dell'energia elettrica e di valorizzazione dei certificati, siano essi bianchi o verdi. E tutto questo senza investimenti? Il cliente non sborsa una lira e riceve un risparmio che spesso è superiore al 10% dei costi energetici, con l'ulteriore vantaggio di non dover distrarre risorse, né economiche né soprattutto manageriali. Noi facciamo così, cominciamo con una valutazione dei costi iniziali complessivi del cliente, vediamo dove possiamo intervenire, come migliori rendimenti, come cessione di energia elettrica alla rete e come valorizzazione dei certificati, quindi abbiamo un nuovo livello di costo e che genera un risparmio. Questo risparmio viene suddiviso fra genergia e il cliente. Diciamo che genergia trattiene una parte del risparmio per ripagare capitale e interessi, il resto va al cliente. Naturalmente ci vogliono diversi anni affinché questo ciclo sia compiuto, diciamo mediamente 8. E questo però è in condizione che sia chiaro che noi non facciamo la banca. La proprietà degli impianti è per noi una modalità tecnica per assicurarci nella gestione e quindi le decisioni operative e quindi conseguire i risparmi promessi. L'investimento perciò per noi è un mezzo, non un fine. Il cliente come misura il risparmio? Guardi, il risparmio economico è il prodotto del risparmio energetico per i prezzi di mercato. Il risparmio energetico è garantito dal nostro intervento tecnico e dalle misure certificate che vengono effettuate prima e dopo il nostro intervento. Il risparmio economico varia in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato. Le formule che utilizziamo per le nostre valutazioni sono necessariamente complesse. Tuttavia, per semplificarne la comprensione al cliente, e le dirò anche per nostra chiarezza interna, abbiamo pensato di sintetizzare i risultati ottenibili dal cliente in un solo foglio. Per esempio, questa tavola di sintesi, entrando ogni anno con il prezzo del gas che il cliente paga quell'anno e il prezzo di energia elettrica, si ottiene in ogni casella il risultato ottenibile dal cliente secondo i suoi profili di consumo attesi per l'anno successivo. Quindi una valutazione molto semplice e chiara, che si può fare da soli, anche un sabato mattina in poltrona, basta avere il sole 24 ore sotto mano. Ovviamente le formule sottostanti sono certificate sia da noi che dal nostro ente di certificazione, ma soprattutto anche dagli esperti del cliente. Quindi, ciascuno incrocio, si sa che riposa su formule adeguate. Esiste qualche normativa o standard a tutela del cliente? La normativa a cui fare riferimento è chiara, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Gli standard delle norme che vengono richiamati a tutela sia del cliente, sia del fornitore dei servizi di efficienza energetica sono correntemente applicati da Genergia. Genergia, infatti, partecipa attivamente con gli organismi europei e nazionali per la definizione di questi standard, coordinando diversi gruppi di lavoro e promuovendo la diffusione e l'applicazione delle norme stesse. A che tipo di cliente si rivolge Genergia? Genergia è un'azienda privata e si rivolge prioritariamente ad aziende private del settore manifatturiero e del grande terziario, uffici, hotel, con costi energetici complessivi di almeno un milione di euro. Ovviamente, questo è un valore indicativo. Analizziamo anche aziende più piccole in ragione del settore merceologico in cui operano. Siamo anche interessati al settore pubblico, purché operante mediante soggetti di diritto privato, società per azioni, come facciamo già con successo. Quali sono i settori più interessanti? L'offerta di Genergia è più attrattiva per quei siti che hanno un consumo contemporaneo di energia elettrica e termica, calore, fresco, come ad esempio l'alimentare, il lattiero caseario, la carne, la frutta, i derivati, la verdura fresca e cotta, le passate ai sughi, la pasta, nel settore della plastica e della gomma, lo stampaggio, la goffratura, nella produzione di carta, nel settore farmaceutico. Più in generale, in tutte le lavorazioni in cui bisogna mantenere i valori di temperatura e di umidità in un intervallo definito. Ma in concreto, come funziona? Fatta l'analisi dei consumi effettivi, a nostra cura e spese, Genergia propone al cliente un possibile assetto impiantistico ed un corrispondente contratto di servizio di efficienza energetica. Si è accettato, si passa alla parte autorizzativa, ai montaggi e dal collaudo. Di solito, dopo 10-12 mesi si è in pista. E qui comincia il rischio di conduzione di cui parlavamo prima. È ovvio che un professionista del settore accederà a condizioni più favorevoli o meno variabili di chi per mestiere fa i formaggini o, che so, i pavimenti di gomma. Chi fa da sé con l'energia rischia di fare per 33, ma anche negli errori. Genergia fornisce anche il gas. Genergia è grossista di gas ed è quindi in condizioni di approvvigionarsi ai migliori prezzi di mercato e di trasferire questo vantaggio al nostro cliente. Ove il cliente abbia più siti industriali, possiamo fornire di gas anche quelli in cui non operiamo direttamente con un contratto di servizi energetici. Al contrario, però, la sola fornitura di gas senza un contratto di servizi energetici non rientra nel nostro core business e quindi preferiamo evitarla. Voi operate nelle fabbriche. Cosa accade se c'è un guasto? Innanzitutto gli impianti esistenti non vengono mai smantellati, ma vengono tenuti in perfetta efficienza e operativi proprio per i casi di emergenza. Così come, d'altro canto, si resta sempre allacciati alla rete elettrica. Oltre a questo c'è il nostro impegno alla risoluzione dei problemi che viene garantito con apposite assicurazioni e penali proprio per sollevare il cliente da ogni preoccupazione in merito ad eventuali fermi impianti. E poi Caterpillar è diventata famosa nel mondo proprio per l'assistenza in 12 ore assicurato ovunque, quindi siamo tranquilli. Quale tecnologia utilizza prevalentemente Genergia? Guardi, nel campo dell'efficienza energetica non abbiamo limiti. Ci occupiamo dal cogeneratore, alle caldaie, dagli assorbitori, ai compressori, dai frigo ad alta efficienza e a tutte le apparecchiature che possono assicurare un risparmio energetico al cliente e quindi economico. Il nostro è un servizio sartoriale, quindi dobbiamo solo tenere presente i fabbisogni del cliente e minimizzare i rischi, che è sempre l'obiettivo principale per lui e per noi. E le rinnovabili? Oltre a utilizzare biogas, valutiamo anche impianti a biomasse liquide, per esempio gli oli vegetali e solide. Siamo inoltre operativi nel fotovoltaico con un accordo con un primario operatore del settore che importa, produce e installa. Operate solo con o su materiale Caterpillar? Assolutamente no, siamo del tutto laici rispetto alle diverse marche e tecnologie operanti sul mercato. E non potrebbe che essere così, visto che rileviamo impianti e centrali esistenti. Per contro va sottolineato come le società CGT e GTS dispongano di circa 40 centri di assistenza di cui ci avvaliamo e che sono assolutamente vicini al cliente, sempre in grado di manutenere i prodotti in modo efficiente ed affidabile e costituiscono un nostro punto di forza. In sintesi, cos'ha Genergia di diverso dagli altri concorrenti? Siamo più prudenti, più pignoli, direi più realisti. Non trasferiamo il rischio al cliente facendogli acquistare l'impianto, ma disponiamo delle capacità gestionali, tecniche e finanziarie per realizzare quello che promettiamo, e cioè risparmio senza investimenti per il cliente. E noi questo risultato lo garantiamo.